ciao sono Carmelo niente volevo ringraziare molto Elia e le storietese di questo piccolo spazio che mi hanno concesso e dopo la mia permanenza a Berlino splendida peraltro perché a livello di parruccheria come sappiamo sono avanti proprio anche con la tecnologia niente ho riaperto un piccolo posto mio sempre di ricerca sul capello e sul concetto di air styling i delfini giocano nel mare con i tonni e non fanno differenza ben sapendo che i tonni non sono cetacei questo ci insegna che in natura non esistono differenze di razza tanto tanto siamo tutti esseri nuotanti in un fluido che è l'aria ma in talune condizioni esso si comporta come l'acqua e perciò e perciò noi potremmo pensare di essere pesci o cetacei che che respirano respirano un fluido che fornisce ossigeno potrei potrei il re della pausa franco potrei essere il migliore non vengo sfruttato do energia mi chiamo Pinolo ma ma tra io l'ossigeno serve mano a tutti e fuoco e una ricordi viene respirato compagna pensieri qualcosa da tutti bella stupenda e non per questo sincera condividere cambio che adesso specialmente le le che faccio se sue si è proprietà e sono io perciò non l'unità ma amici mi continuiamo tradisce astronauta e mai non scordire respirare io se l'aria l'amo a l'unità si non 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 l'am l'unità Olacqua! Sì!